Bene, bene, vediamo, vediamo in questo video, vediamo, vediamo in questo video 10 modi infallibili per scoprire un uomo bugiardo. Allora, vediamo quali sono 10 modi infallibili per scoprire un uomo bugiardo. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, 10 modi infallibili per scoprire un uomo bugiardo. Allora, il primo modo che ti indica che un uomo ti sta mentendo, che ti sta raccontando bugie, è quando un uomo ti dà troppe spiegazioni. Se un uomo ti dà troppe spiegazioni, parla nei dettagli, è perché ti vuol mentire. Tu gli dici, dove sei stato ieri? Dice, sì, sono stato a cena con degli amici, siamo andati lì, c'era tizio, tizio mi ha raccontato questo, caro mi ha raccontato quell'altro. Poi, Pinco Pallo ha detto questo, Pinco Pallo... Inizia a darti tutta una serie di dettagli è perché vuole nascondere il fatto che lì a cena con questi non c'è mai stato. Tieni in presente questo. Se dà troppe spiegazioni, vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa che non va. Cioè, non è che per carità, però è sempre meglio verificare qual è la situazione. È molto probabile che questa persona non ti porti assolutamente niente di buono. Questo devi tenerlo presente, è un qualcosa che devi prendere in considerazione. La seconda... il secondo indizio, diciamo, che ti fa capire che un uomo ti sta mentendo, è quando tende a coprirsi la bocca mentre parla. Sì, sì, ci siamo visti ieri sera. Ecco, quando... proprio il coprirsi la bocca. Questo è un qualcosa di atavico, diciamo, che era già presente nei bambini. I bambini piccoli, quando raccontano le bugie, raccontano qualcosa di non vero, tendono a mettersi la mano davanti alla bocca, perché, come dire, così non scopri, non scopri le parole, farlocchi che dico. Ecco, questo è un... è un qualcosa di molto, molto interessante, no, da scoprire. Il terzo modo per capire che un uomo ti sta mentendo è quando mette in atto degli scarichi di tensione eccessive. Si gratta la testa, raschia di continuo, mentre parla ha proprio scarichi di tensione. Questi scarichi di tensione hanno proprio la funzione di scarcare la tensione aggiuntiva che nasce proprio dal fatto che questa persona, diciamo, in qualche modo... che questa persona in qualche modo appunto è stata... sta mentendo e quindi vuole tenere nascoste le cose. Vuole tenere nascosto quello che... che capita. Quindi questo è un segnale molto, molto forte che... che la persona ti sta mentendo, che la persona non ti sta raccontando la verità. È un sistema che utilizzano... utilizzato moltissimo e... e devi tenere presente questo... questo qua che è un fatto veramente fondamentale, un qualcosa che capita molto spesso e devi tenerlo presente, insomma. Poi un altro... il quarto modo è, diciamo, quando un uomo mente tende a cambiare postura e soprattutto assumere una postura di chiusura. Ad esempio, gli dici... ma ciao, come vanno i rapporti con tua moglie? Dici, sì, sì, bene, grazie. E cambia... stava così, cambia postura e, ad esempio, incrocia le braccia, no? Ecco, quindi un cambio di postura, soprattutto quando passa a una postura di chiusura, è certo che questa persona ti sta mentendo, che questa persona ti sta, diciamo, raccontando delle balle. Un altro modo per capirlo è quando la persona cambia discorso, cerca di isolare... Abbiamo visto che dare troppe spiegazioni è, diciamo, indice di menzogna. Invece, darne poche, ma cambiando comunque discorso, è un altro indice di menzogno, comunque... Dove sei stato ieri? Sì, sono stato a cena con gli amici. Cavolo, hai sentito che è venuto quel terremoto? Porca miseria! Ti distrae, diciamo, e ti porta, ti dà una risposta vaga, ma poi distrae la tua mente facendoti andare su qualcos'altro, ad esempio. Perché non si sente in grado di sostenere, diciamo, di sostenere una... Una menzogna, perché non sapendo cosa dire, probabilmente non sapendo cosa raccontare, varia. Questo è un altro indizio molto molto eclatante, molto forte di menzogna. E poi c'è un altro indizio forte che ti guarda come nel vuoto, fisso nel vuoto, come se il suo sguardo fosse uno sguardo fisso, uno sguardo che non riesce a gestire. Ecco, questo è un altro indizio forte che questa persona, in qualche modo, ti sta mentendo. Questa persona ti sta raccontando delle balle. Ecco, fondamentalmente questo tieni presente, che è un altro punto molto importante da prendere in considerazione. E il settimo segnale, il settimo modo per capirlo, è che il respiro cambia, tende a diventare un respiro più accelerato, tende a diventare un respiro più forte. Questo è un'altra modalità per capire che questa persona, diciamo, è una persona completamente, come dire, in tensione, quindi quando lo respiro diventa affannoso addirittura, è molto, è molto, è molto forte. Un altro indizio è che quando ti rifà le stesse domande che l'hai fatto tu. Ah, dove sei stata a cena ieri sera? Sì, sono stato con dei miei amici, tu cosa hai fatto? Dove sei stata? Cos'hai combinato? Ecco, quindi questa è un'altra modalità che spesso utilizzano i mentitori. Altro modo per capire che un uomo ti sta mentendo è quando cerca di confondere le acque. Pare confuso nelle spiegazioni, si contraddice da solo, dice una cosa poi dice un'altra. Insomma, vai in uno stato di confusione. Ecco, questo è un altro indizio che, diciamo, che ti sta mentendo. Il decimo segnale tende a toccarsi il naso mentre parla. Sì, è vero. Sì, sono stato con degli amici, abbiamo fatto delle cose. Il naso è proprio quel segno, diciamo, di rifiuto. Dire una cosa toccandosi il naso significa esattamente il contrario. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi, abbonatevi ai canali.